Noi l'abbiamo accompagnato e lui ci ha accompagnato in questa dipartita, piano piano, gentilmente, facendoci abituare alla sua scomparsa e quindi leggevamo insieme delle poesie, sentivamo della musica, ci facevamo delle volte anche delle risate, fino a che poi si è addormentato ed è andato. L'ultimo incontro che abbiamo avuto è stato proprio bello perché lui voleva molto parlare di futuro. E dunque questo grandissimo ottimismo e questo grande coraggio a volere stimolare il modo da poter creare un mondo e un paese migliore, più forte. E credo che questo suo ottimismo è sicuramente il ricordo più bello e importante che mi ha lasciato. E' un padre, è un riferimento, non lo so, mi mancherà. A che cosa pensa quando pensa Eugenio Scaccia? Che non ce ne sono più di uomini così. Senza scavare troppo nel personale perché quello rimane nascosto dentro. La gioia della sua gioia, la gioia del suo parlare di politica, del suo concepire la politica nel modo giusto, quello che non c'è oggi. Cioè una visione, la voglia di fare battaglia, di crederci. Tanti disaccordi, momenti anche di disaccordo, anche forti con Eugenio. Ma la bellezza di essere presi sul serio, di essere ascoltati e di avere una risposta alle proprie obiezioni. Per me grande nostalgia di quelle conversazioni, di quel suo pensiero profondo, alto. E' sempre pronto a pensare all'impensabile, sempre pronto a proiettarsi lontano. Devo dire, grande nostalgia, grande mancanza. Veramente una punta di grande malinconia. Però anche per quanto mi riguarda, almeno il pensiero, la fortuna di aver avuto tante occasioni per poter dialogare con lui, discutere con lui. Lui ha sempre avuto un rapporto anche con la sua redazione. Sempre di autorevole, molto, ma sempre poi amico di tutti i redattori. Che poi andavano magari a cercarlo perché erano lasciati da fidanzato o la fidanzata. Perché erano un problema. Quindi c'era un rapporto professionale di grande scuola di giornalismo, ma allo stesso tempo di grandissima amicizia e complicità con moltissimi dei redattori che lui ha avuto. Rimpianti, no. Ha fatto una vita fortunatissima, lunghissima, si è divertito tantissimo. Ha avuto un impegno professionale, civile, morale, quanto ha potuto, più che ha potuto. E quindi direi che era sicuramente molto appagato della sua vita, pur mantenendo sempre la curiosità per cose nuove. Questo sì, fino all'ultimo momento, anche di una cosa piccola magari, ma curioso sempre. Grazie a tutti.